e noi ovviamente la prendiamo rapidamente perché tra poco inizia la messa quindi so che dobbiamo lasciarvi subito liberi per arrampicarvi sul campanile per mostrarci proprio qual è anche l'atmosfera anche lì nel massimo rispetto delle norme per questa tradizione che lo ricordiamo prevede proprio delle suonate durante tutto il tempo almeno fino alle 22 a mano poi ci sarà il coprifuoco dalle 5 del mattino quest'anno si ricomincia a mano ma sarebbe durata tutta la notte ma nel frattempo parliamo del magnalia di questo canto di questa melodia di questo pezzo di cuore per tanti sepinesi vediamo nel servizio di patrizia testa di anno in anno la liturgia del 9 gennaio si è presentata ai fedeli sempre molto ricca di gesti simbolici gesti di fede il primo atto che solitamente avviene è quello della esposizione solenne in chiesa della statua e della reliquia del braccio di santa cristina a questo fanno seguito prima la celebrazione dei vespri e poi la santa messa è durante la messa che il sindaco in carica tiene il consueto discorso rivolto alla comunità e dona alla martire attraverso le mani del parroco oro incenso e mirra la cerimonia termina con la benedizione di tutti i bambini che sono così affidati alla protezione della santa tu vuoi bene i bambini un giorno a se li chiamò e disse a chi lo ascoltava a loro il mio regno darò lasciate che i bambini vengano a me 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 durante la liturgia anche la musica è essenziale suggestivo e intenso è il canto latino magnalia un'antica opera popolare composta in onore della patrona di seppino cristina vergine martire e 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 musicale presso il Conservatorio Santa Cecilia a Roma dove si è diplomato in arte sacra in composizione sacra e ha dedicato tutta la sua vita alla composizione sacra diciamo come avviene spesso per gli artisti che di provincia che non sono molto conosciuti la sua arte è venuta fuori dopo e è venuta fuori in maniera prorompente perché lui è stato uno degli innovatori dopo il concilio Vaticano II prima il coro la liturgia era completamente slegata dal popolo dopo il concilio Vaticano II c'è questo questo richiamo al rinnovamento di cui Don Nicola era fautore e lui diciamo che fu in grado di creare delle melodie estremamente semplici ma molto molto complicate sembra un paradosso ma effettivamente è proprio così cioè da un punto di vista della partitura siamo di fronte a delle melodie molto complesse e quando invece vengono suonate eseguite arrivano direttamente al cuore delle persone ecco questa è stata la forza di Don Nicola e della sua musica l'altra persona che devo ricordare perché lui era l'autore della musica però i testi sono venuti fuori da un altro animo veramente importante che appartiene al cuore alla memoria di Sepino che poi mi appartiene personalmente perché mio nonno Amoddio Ferrante che è stato poeta dialettale è sempre stato vicino alla comunità sepinese ha vissuto intensamente e con fervore tutti i momenti della sua vita in connubio con Santa Cristina e con la comunità di Sepino e lui ha scritto queste bellissime parole dedicate alla Santa Gloria Patria e Figlio e Spiritui Santo Bene rapidamente se possiamo ci colleghiamo subito con il campanile perché tra poco inizia la messa quindi abbiamo praticamente pochissimi minuti a te Barbara Sì, grazie, grazie Giuseppe siamo effettivamente sul campanile dove si sprigiona la magia grazie alle abili mani dei suonatori ma anche dei rammattatori allora noi siamo con Andrea Ferrante uno dei coordinatori del Comitato Festa di Santa Cristina che ci racconterà qualcosa di molto interessante che è legato appunto alla storia ma è anche alla tradizione delle festività di Santa Cristina allora Andrea Ricordiamo che questa tradizione la notte delle campane ha ben 922 edizioni inizia quando e come? Sì, in realtà come sempre la tradizione delle reliquie di Santa Cristina in questa tradizione si mischia il posso? Sì, dicevo dicevo in questa tradizione delle reliquie come sempre si mischia il popolare e lo storico cosa voglio dire? c'è un filone che è conosciuto da tutti che è quello popolare della tradizione orale popolare secondo il quale le reliquie di Santa Cristina sono arrivate il 9 gennaio 1099 quindi in pieno medioevo in seguito a due pellegrini francesi che diretti in Terra Santa si fermano a Bolsena decidono di trafugare le reliquie della Santa Bolsena la città natale di Santa Cristina e poi giungono a Sepino ove miracolosamente queste reliquie diventano pesanti e quindi da allora Santa Cristina diventa la protettrice di Sepino e poi ci sono alcune fonti storiche secondo le quali invece queste reliquie furono trafugate sempre a Bolsena su una commissione questa commissione fu fatta dal parroco di Sepino dell'epoca che gravemente malato decise di affidarsi alla Santa andando a concludere cosa possiamo dire? qual è il quadro storico di quegli anni? pensiamo che nel 1099 si conclude la prima crociata 50 anni prima con Rudolfo de Mulen nasce la regione Molise e proprio qualche anno dopo 50 anni dopo 60 anni dopo il 1099 queste reliquie vengono donate da Sepino a Palermo pochi sanno che Palermo prima di avere Santa Rosalia come patrona aveva proprio Santa Cristina proprio perché Ugone Conte di Molise anche lui era un demolisio fece questo dono tramite la famiglia della Voglie che era la famiglia degli Altavilla quindi c'è un legame anche con Palermo Perfetto grazie Andrea si è stato davvero molto molto chiaro allora a questo punto io vorrei sentire prima di lasciar loro spazio per la suonata delle 1715 che è quella poi che chiama l'amministrazione comunale in chiesa vorrei sentire Daniele prego e Cristiano allora Daniele e Cristiano eccoli qua sono due dei suonatori della squadra appunto delle squadre composte da sei persone ricordiamo quattro suonatori e due rammattatori allora per voi è una tradizione che si ripete è una tradizione che si ripete come ogni anno grande emozione e abbiamo ereditato questa tradizione dai nostri genitori dai nostri nonni li vedevamo sempre in passato salire su questo campanile quindi ci siamo appassionati anche noi quest'anno diciamo siamo un po' più limitati però siamo comunque riusciti ad organizzarci e siamo strutturati in gruppi da sei persone come dicevi tu prima quattro suonatori e due rammattatori perché è il numero minimo che ci consente di poter suonare quattro suonatori perché le campane insomma sono abbastanza grandi ecco le vediamo proprio alle nostre spalle le vedete anche i nostri telespettatori esatto questa è la campana grande che noi chiamiamo campanone e ha un peso insomma abbastanza importante perché sono circa 20 quintali quella è la campana un po' più piccolina che gira intorno ai 15 quintali questa è la campana nuova perché l'abbiamo sostituita nel 2011 dopo la rottura del vecchio campanone a Daniele un piccolo accenno alla tecnica per suonare la campana alternatevi vieni più vicino sì allora ci sono come diceva Cristiano due rammattatori e quattro persone cioè due alla campana e due al campanone bisogna semplicemente tirare fin quando non arriva a una certa altezza il rammattatore appunto appena arriva che dà il rindocchio il primo rindocchio della campana quando fermano in zona è diciamo lo stesso quindi quest'anno suonare avrà un significato ancora più particolare sarà davvero più significativo perché il suono di questa campana deve raggiungere tutti i sepinesi che non sono riusciti a venire per le festività natalizie e per questa di festività sì e purtroppo quest'anno è andata così speriamo l'anno prossimo andrà meglio molto bene a questo punto noi vi ridiamo la linea vi ricordiamo che tra pochissimo alle 17 e un quarto circa ci sarà la suonata da parte appunto della squadra per chiamare in chiesa l'amministrazione comunale quindi ci siamo mi fanno segno dell'orologio noi invece scendiamo giù in chiesa dove vi spiegheremo altre cose poi per dar spazio alla funzione liturgica a te la linea Giuseppe